L'aggiornamento INAIL sulle denunce di infortunio per Covid-19, circa quindi le persone che avrebbero contratto il virus sul luogo di lavoro, con i dati che arrivano fino a 15 giugno scorso, conferma il primato della provincia di Bergamo nella classifica delle morti bianche. Sono infatti 30 le vittime orobiche che hanno contratto la malattia sul posto di lavoro e che, in seguito al coronavirus, hanno perso la vita. Il 12,7% del totale nazionale, quindi, delle morti bianche da coronavirus sul lavoro è in provincia di Bergamo. 5 delle persone decedute erano residenti, in particolare in città. La Lombardia arriva da sola al 36% del dato nazionale e Bergamo è, per le province, quinta per numero di infortuni dovuti al coronavirus, con 895 segnalazioni, su un totale di 49.021 casi. Gli infortuni totali nei primi 5 mesi del 2020, quindi sia Covid sia non Covid, a Bergamo sono stati 5.474 contro i più di 6.000 del 2019, con un calo del 10,4% dovuto al blocco delle attività per il lockdown, quindi ci sono stati meno incidenti sul lavoro. Le malattie, però, sono aumentate legate, appunto, al contagio da coronavirus. Visto che molti dei nuovi focolai di contagio sembrano svilupparsi sui luoghi di lavoro, ha commentato Angelo Chiari, responsabile delle politiche della salute e della sicurezza della CGL di Bergamo, è necessario mantenere alta l'attenzione all'interno di tutti i siti produttivi, con un confronto nei comitati aziendali, tra RSU, RLS, aziende, medico e competente. Il distanziamento sociale, sanificazione degli ambienti e dispositivi di protezione individuale devono continuare ad essere utilizzati come previsto dai protocolli, siglati il 5 maggio scorso a livello territoriale. Infine, il sindacato sollecita ancora una volta INAIL ad agire con urgenza nei confronti dei lavoratori colpiti da coronavirus e delle loro famiglie, perché possano avere il prima possibile ciò che gli spetta.